Faccio vedere diversi autori, diversi artisti storici da quando ho iniziato, quindi cerco di approfondire un po' l'argomento delle prime ricerche, delle prime sperimentazioni a quelle di oggi, alle ultime ricerche, non so, invento l'ultimo David LaChapelle. Faccio vedere questi autori, ne parliamo, ne discutiamo e poi do un progetto a loro. C'è una parte teorica, più che teorica e visiva, in cui si discute dell'argomento, ne approfondiamo insieme, parte pratica fatta da me e dagli allievi e poi c'è la terza parte pratica fatta solamente dagli allievi senza la presenza dell'insegnante. Poi vengono qua con il materiale e insieme ne discutiamo, diciamo quando delle immagini vanno bene, perché vanno bene, quando non sono buone e per quale motivo non sono buone. Però ogni allievo dice la sua sulle immagini degli altri colleghi di corso. Non solo io che dico che questa immagine è buona o non buona, sono gli stessi allievi che ne discutono. Quindi si fanno questi dibattiti, dibattiti che sono veramente interessanti, spesso escono fuori delle lezioni bellissime, in cui io stesso mi formo di volta in volta. Oggi viviamo in una società, in un mondo dove le immagini sono importanti, si comunica per immagini. L'immagine appartiene veramente a tutti noi. Io stesso utilizzo il cellulare, il telefono per fare immagini che mi servono per documentare determinate cose. Quindi investire sull'immagine, sulla fotografia è una cosa intelligente. Farlo bene, farlo in un certo modo è ancora più importante. Quello che succede, oggi sono andate tantissime scuole di fotografia, veramente tante, perlomeno qua a Roma ce ne sono veramente tante, ma insomma parliamo dell'Italia, a livello nazionale, sono tantissime scuole di fotografia. Fotografi che magari con poco camera e cucina tirano fuori una scuola di fotografia. Il discorso è questo, che insegnare la tecnica fotografica, tempo, diaframma, ISO, profondità di campo, è veramente semplice. Sono cose facili da imparare e da dire. Oggi su internet troviamo mille tutorial al riguardo. Però quello che deve essere poi insegnato agli allievi è la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché si sta scattando, cosa si vuole comunicare. Ed è la cosa più difficile. E questo sui libri non si trova. Penso che qui in Rufa è quello che facciamo noi insegnanti. Non va studiata, la fotografia va messa in pratica. Più si scatta e prima si arriva. Io spesso faccio lezioni fuori dall'accademia. Spesso riesco a programmarle. Quindi dico, la prossima lezione, il prossimo vierdi scattiamo il pending. Non so che è un tipo di un effetto fotografico avvillata. Quindi portate tutti l'attrezzatura fotografica e portate tanto entusiasmo. Però magari capita che durante le lezioni c'è fuori una splendida giornata, che per splendida giornata si intende sì sole, ma magari grandine. E lì decidiamo di fotografare gli oggetti sotto la grandine. È fondamentale fare pratica, scattare. La fotografia ha bisogno di essere praticata. È la numero uno. La fotografia deve essere scattata in continuazione. Ogni fotografo, specialmente nel periodo formativo, dovrebbe uscire sempre con la macchina fotografica in mano e quella famosa consapevolezza, sapere cosa stiamo facendo, e scattare in continuazione. Non ci sono altri metodi per imparare fotografia. Io ho fatto così, sono diventato un fotografo non studiandola, ma semplicemente mettendola in pratica. Anzi, dirò di più, ho iniziato a studiare fotografia veramente bene quando ho iniziato a insegnarla. Perché molte cose che conoscevo le sapevo fare attraverso la pratica, ma spiegarle è tutt'altro. Quindi lì ho iniziato a riprendere i libri in mano e a studiarli. Faccio tantissima pratica qui in Rufa. Ne faccio tantissima anche in camera oscura. Io penso che viviamo oggi in un momento, per quanto riguarda ovviamente la fotografia, in un momento fantastico perché oggi il fotografo può decidere se scattare in analogico e in digitale. quindi in pellicola o con file. Ed è bello unire le tue cose. Una cosa che faccio spesso è in camera oscura apprendiamo tecniche di stampa antica. Quindi, so, cianotipia, vandic, brunotipia, sono tutte tecniche di stampa che si fanno col sole, attraverso la chimica, attraverso delle tecniche. In realtà è estremamente semplici, però vanno raccontate, vanno fatte vedere. Questa è una cosa che facciamo tantissimo. Però partiamo da un file digitale, quindi scattiamo un'immagine col file digitale per poi ottenere un negativo digitale, che non è altro un negativo trasparente, in formato X, e poi stampato in camera oscura con una tecnica di stampa antica. Il risultato è bellissimo, veramente bello. Ed è una cosa che facciamo durante l'anno. Ovviamente facciamo anche camera oscura classica, quindi sali d'argento, lampadine rosse e quatt'altro. Ma poi approfondiamo la luce, attraverso gli schemi di luce. Schemi di luce che utilizziamo nel ritratto, che non abbiamo fatto altro che rubare alla pittura. La pittura prima ha rubato alla natura. Quindi, insomma, sono dei schemi che si ripetono in continuazione, sono 4, 5, 6. E li facciamo qui in sala pausa. Quindi in continuazione noi ripetiamo questi schemi di luce finché tutti quanti lo li sanno fare quasi ad occhi chiusi. Scoprire un talento è veramente complicato. A volte mi capita di vedere allievi che per motivi di carattere, sono timidi, introversi. Questo ovviamente rispecchia anche il loro modo di fotografare. Dentro di me pensano che questo non arriverà mai. E poi improvvisamente, a metà corso, a metà dell'anno, succede che esplode la sua creatività e escono fuori dalle immagini complicate. Per questo anche belle. Sì, è veramente difficile scoprire un talento. Ogni tanto ci sono riuscito, ogni tanto ci ho preso in qualche modo. Però la cosa bella è trattare ogni singolo allievo come dei talentuosi. 20 allievi, 15 allievi, per me sono tutti talentuosi. Poi, comunque, chi riesce nel mondo del lavoro non è il talentuoso, non è quello che ha talento, ma riesce quello che in realtà produce, quello che non è pigro, quello che fa. Talenti, secondo me, si nasce, ma si diventa anche, entrambe le cose. Chi nasce talentuoso è veramente fortunato. Però io penso che con lo studio, soprattutto con la pratica, con la ricerca, con la sperimentazione, con la costanza, si può diventare talentuosi. Ma veramente penso che ognuno di noi ha del talento che è semplicemente impolverato e va spolverato in qualche modo. Io ho un modo di seguire alcuni allievi una volta usciti dall'accademia, ma in realtà non lo scelgo io, sono un po' loro che scelgono di seguirmi nel tempo. Gli allievi sono tanti, non tutti ovviamente riusciranno. Riuscirà quello che ha più costanza e quello che ha più costanza è quello che poi continua a mandarmi i lavori. Spesso molti, anzi no, spesso tutti i miei assistenti che sono sui set, lavoro con diversi assistenti perché faccio dei tipi di fotografia dove mi piace avere molte persone che lavorano, sono tutti i miei ex allievi. Quindi sì, capita che molti usciti dall'accademia poi mi seguono e io li seguo per un periodo di tempo. Una volta uscito dai miei corsi, insomma dal corso di fotografia, hai sicuramente un buon bagaglio tecnico pratico, ma poi sappiamo tutti che non è sufficiente per iniziare a lavorare. Però sì, ogni insegnante fa lavorare il proprio allievo sul proprio book, quello è importante, con il proprio book può iniziare a bussare nelle gallerie o semplicemente presso studi fotografici per iniziare a fare la gavetta. Ripeto, non basta un book, non basta un'accademia, serve poi un percorso formativo pratico di sei mesi, un anno, forse due anni a secondo dell'allievo.